Il centro-destra che in questo momento è abbastanza in fibrillazione, cosa ne pensa e se magari un suo eventuale sostegno in questo schermo? Guardi, io ho rifiuto già di fare vicepresidente della regione con la delega al bilancio e alla programmazione, perché? Perché la banda Bassotti non è solo nel centro-destra, c'è in termini complessivi, perché se questa regla è stata ridotta così è perché c'è stato un governo che ovviamente è stato rappresentato da tutti gli stupratori seriali, perché negli ultimi vent'anni hanno governato tutti qua, destra, centro e sinistra, quindi nessuno può essere assolto per non aver compreso il fatto, il fatto l'hanno compreso tutti e come se non l'hanno compreso? Quindi maggioranza e conflitto opposizioni, si sono scambiati i ruoli, questa è la banda Bassotti, non è riferita solo al centro-destra, il centro-destra sta semplicemente defragrando quelle che sono le contraddizioni che ovviamente ci sono, stanno emergendo, voi qua a Cuscia lo sapete che cos'è, no? Allora la lì di Pacuscia, siccome c'è un problema per ora di nominare un po' di direttori generali, anche nomi eccellenti e di conseguenza c'è stata anche qui una faida, quindi la norma blocca eccetera eccetera, la norma blocca nomine è scoppiata dall'interno e ancora è solo l'inizio, ve lo assicuro, ecco perché io farò il sindaco di Sicilia, questo mettetevelo in testa, tutto quello che ora voi state vedendo sarà aumentato a cubo, ci sarà una grande spaccatura in 5 stelle e anche nel centro-sinistra la situazione è normale. Ma da solo pensa che di riuscire a vincere? Io sono solo, appunto. E chi gliel'ha detto che sono solo? Cioè scusatemi, io sono solo, quindi io ero solo a Messina, ero dato quarto ai sondaggi, mi è stato offerto una settimana prima di presentare le liste dal Presidente Miccichetti, fare il candidato del centro-destro e ho detto no e quindi tutti mi dicevano ma lei solo dove deve andare? Ho vinto l'elezione e l'ho fatto fuori solo con un colpo, colpo solo, colpo unico. La stessa cosa succederà ora, io solo? Ma quando mai? Io ho la gente, io finora sono riuscito a fare il sindaco in tre comuni diversi, record per record, perché parlano le mie azioni amministrative, non sono mai stato indicato dalle segreterie politiche, quindi avete una visione giustamente che è ancorata a un quadro che non esisterà più nei prossimi mesi.